ciao a tutti oggi prepareremo la pasta frolla al pistacchio il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa gli ingredienti sono zucchero semolato farina di tipo 00 farina di pistacchi burro uova e tuorlo vanillina lievito per dolci vanigliato pasta di limone o scorza di limone e sale diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere il borro l'uovo il tuorlo la farina la farina di pistacchi la vanillina il sale la pasta di limone il lievito e razionare il bimbi per 50 secondi a velocità 5 la frolla è pronta formare un panetto avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per almeno 30 minuti pasta frolla al pistacchio ideale per fare crostate biscotti grazie e alla prossima ricetta e e Grazie a tutti.